Il guardia scrive l'appuntamento con la storia, batte 2-1 a supplementare il Ventinella e conquista la Coppa Italia di promozione, traguardo più alto mai raggiunto nei suoi 40 anni di storia. Masticaamaro la formazione di Bisello Ragno che ha pagato a caro prezzo le assenze di Petti, Spiaggia, Mareani, Morucci, Checchi e Camiglia e gli infortuni a gara in corso di Montacci e Pinazza. Un Ventinella che scende in campo al Comunale di Bastia con un 4-3-3 con Miccio in porta, Bigarini, Sacco, Scappini e Timbro in difesa, Montacci, Pinazza e Pici in mediana con Catani, Gibbs e Shea a comporre il tridente avanzato. E Pinazza dopo 4 minuti prova a suonare il primo squinto su calcio di punizione con palla che sfiora il palo. Il guardia messo in campo da Filippo Avola con un 4-3-1-2 con Barbabella tra i pali. Schiaroli, Marchini, Giuliano, Avola andrà a saccomanni nel reparto arretrato. Domenici, Piscini e Bonaccorsi a centrocampo con Materazzo alle spalle di Vittorio e Floccari. Si vede al 29esimo quando proprio Floccari non riesce ad approfittare dell'uscita al limite di Miccio. Ancora guardia prima dell'intervallo con Materazzo che pennella per Vittori senza tuttavia che il numero 9 rosso-blu trovi la stoccata giusta. Si chiude sullo 0-0 un primo tempo ben giocato dalle due squadre ma privo di vere occasioni da gol. Nella ripresa il guardia parte meglio e dopo un minuto Floccari testa subito i riflessi di Miccio. Cinque minuti e sulla schiena dei tifosi del Ventinella corre il primo vero brivido quando Sacco sfiora l'autogolla sulla punizione velenosa di Materazzo. Preludio al gol del guardia che arriva al 55esimo quando Scappini non trova il rilancio. Controllo delizioso di Vittori che si invole e arriva sul fondo, palla in mezzo per la corrente Materazzo che da lì non può proprio sbagliare. Bisello Ragno pesca allora in panchina inserendo Favaroni per Montaccio Infortunato e De Luca. Proprio dalla combinazione fra i due neo entrati nasce l'assist per Catani che conclude sul fondo al 75esimo. Catani abbassato da terzino in versione quadrado non perdona invece all'83esimo quando il classe 2002 Pici è bravo ad aprire per De Luca. Suggerimento per Catani che da lì non sbaglia. 1-1 Ventinella e squadra ai supplementari. Pinazza è costretta ad uscire per un problema ai flessori e dopo appena tre minuti di extra time sul lancio dalle retrovie di Avola. Scappini manca l'anticipo, Vittori ringrazia e firma il gol che consegna di fatto la Coppa al Guardea. La formazione di Avola infatti amministra con Materazzo arretrato sulla linea dei centrocampisti e un sontuoso Piscini classe 2002, padrone indiscusso della mediana. No, in sincerità è una partita che è stata combattuta, forse loro al primo tempo hanno fatto meglio nella seconda parte, secondo me noi abbiamo giocato bene, abbiamo trovato il gol, potevamo essere più precisi, però penso che il Guardea l'abbia meritata alla fine questa partita. Una buona squadra, organizzata bene, faccio i complimenti a loro. Questa mattina, forse dall'inizio della settimana, è stato il momento in cui ho cominciato veramente a pensare a quello che sarebbe potuto succedere e adesso ancora non riesco a crederci perché noi comunque sapete benissimo tutti qual è il progetto, non so se Daniele prima vi ha accennato, però dei 20 ragazzi, 15 per la precisione sono del posto, oggi in panchina avevo un 2006, si è partito quattro anni fa e penso sia il giusto premio per i ragazzi che oggi sono stati veramente sopra le righe, tutti. Grazie, grazie per i complimenti, bisogna dire bravissimi a tutti oggi, oggi hanno fatto una prestazione che di la verità si vede da diverse domeniche, noi ci applichiamo tantissimo durante la settimana, cerchiamo di proporre delle idee che il mister ci indica e poi il campo fortunatamente ci sta dando ragione. Sinceramente non so che dire perché è la prima volta che faccio un'intervista, comunque niente, sono felicissimo perché è il mio primo trofeo con questi ragazzi fantastici. Immagino ci tenevi tantissimo, c'è una dedica particolare per questa Coppa? La dedica va come sempre alla mia famiglia e a tutto lo staff, i giocatori, il mister, tutti quanti.